Ciao ragazzi, oggi siamo su The Stanley Parable, la parabola stale. Adesso vediamo un po' qua il giochetto. Ok... Non, non... Eh... 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 Oh, ok... Ok... Ok, che ce la fai... Ok... ... è la storia di un uomo denominato Stanley. ... ... Stanley lavorò per una company in un gran grado in cui era il servo del 427. Il servo del 427 era semplice. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day, of every month, of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in. As though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions. Call a meeting, or even say, hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Oh, now we're going to move on. Ok, we're going to move on a little bit. This one is a game. This voice that tells us what to do, 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 what to do. And we have to decide whether to follow his instructions or not. All his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. This voice. No matter how rude was none of his OS, the office came to him to him. The keyboard is the end of multiple times, at PC. Scalario! Si può chiudermi nei cassettini? Ah! Ah si può fare un cazzo qua! Ok. Possiamo andare dentro o no? Qua si può andare dentro? Si, mi sa toccare... Ah! Faccio una riflessione. Eh va bene. Aspettiamo un poco. Niente. Ah! Oh, come faccio a salire ora? Vabbè, comunque. Niente. Qua, cucù. 416, niente. 415, niente. Qua, niente. Ah! Ah, si sta tutta... Tirando via tutti i mobili. No! 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 Ma noi andiamo in quella sinistra? No! Andiamo contro! Ahah! No! 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 solo per spendere un po' di momenti qui in questa immaculata e bellissima costruzione. Stanley si stava qui, piacendo tutto in. Ok, benissimo. Questa è la sua sinistra. Prima porta aperta a sinistra. Andiamo qua dentro? Ma no ragazzi! Andiamo avanti. Ha ha, andiamo da lì. Stannle è stato un senso ritamento. Hehehehe. Ah, vediamo, non c'è la mia, andiamo. Perchè sta formando... ...jump...dicera cinque... Azzalina. Andiamo a fare un senso. Si, ciao. E' un senso. 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 Che cosa è bello? Ma voglio aiutare. E' un senso. E' un senso. E' un senso. Ma voglio aiutare. E' un senso. E' un senso. Non so che voglio aiutare. Scusate, attenzione, questo è importante. Stanley walked through the red door. Staglia attraverso la porta rossa. Si, si. Ok, vabbè, ciao. forse non mi ha sentito periuscire. Stanley walked through the red door. Si, si, ciao. Mi ha trovato questa. Non credo questa cosa che voglio aiutare a noi. Stanley walked through the red door. not mind spirito, staglia attraverso la porta rossa. No! C'è una porta blu qua, ciao! Non c'è nulla qui. Non c'è nulla qui. Non c'è nulla qui. Si! Non c'è nulla qui. Oh la c'è nulla qui. Questa è la terza opzione. Questa è già un'altra opzione. Questa è già un'altra opzione. Questa è già un'altra opzione. Molto attraente sta porzio sto corridoio arancione. Però no. Questo qua no. Ma vedo questo, eh. Ok, io ti fermo, sono nata. Ora, mi diciamo che il tuo esperienza con questa nuova versione. Sperte che il giro ha benvenuto da dare più decisioni. E' tranquillo per essere sincero. Entendo di una terza risposta. E' una vera, non è forte. Noi, ma questo è molto utile. Non lo hai, ma non lo hai. Lo hai, non lo hai. Ho fatto una nuova versione e tutta la mistero. Da stagli, che stessa roba? Dove siamo noi? Stagli, in 9328. This is you. Sette ore, 37 mila azionina. Sette ore. Eh, vabbè. Vabbè, andiamo con questa qua, dai. Che è qua, ma? Ora ti senti pronto, protettore? Facciamo tre, dai. Stavo in titolare, proprio. Eh, vediamo sto nuovo gioco, per testarlo. Questa è questa roba. In questo caso, il bambino entra a la destra, verso la destra. Si, clicchate il botone per tornare a la destra. Ok. Si. E' un gioco significativo. E' un gioco significativo. Si. Si. E' un gioco significativo. Noi dovremmo salvare il tuo fuoco e il tuo... Ciao. Mastardo senza guarda. Faccio solo per incazzarti, mio mio. Po rispetto a me. Ok. Anche. Ehm. No, non ti devi semplicará, questo. Ehm. 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 vediamo che nuovo gioco è minecraft beh Stanley questo ha fatto meglio non posso saltare non posso fare niente ma è abbastanza non posso fare niente non posso fare niente non posso fare niente non posso fare niente ok così mi accanto dai questo si non 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 posso, non posso saltare, non posso fare un tubo qua, andiamo dietro, andiamo, ahia, funghetti, non posso prendere funghetti, no, vedi i funghetti, il ferro, ferro, voglio il ferro, vieni, ma, non posso prendere un'altra, un'altra cosa di più sceglie, un'altra cosa che ti senti completamente irrelevante, questo non può fare nulla alle 5, anche le diamantre non potrebbero sapere quello, ok, nuovo gioco, nuovo gioco, che altro gioco mi dà da fare che altro gioco ah ma non so cosa è questo gioco ma lo amo tu sei, che ti cazzo in una bocca con nessuna scena questa cosa significa che mi racconta non potrei farlo meglio che cosa è che questo gioco non lo so non lo so ok, ora sono curioso andiamo a vedere cosa è questo Portal siamo! Magica bisogna metterlo qua dentro, qua sopra. Genio, geniale, grazie. No, in realtà, sai cosa, penso che questo è abbastanza. Non mi preoccupo molto per vedere che ti stai spingendo più di questi giochi. Aiuto! Lo sto andando. Sono caduto. Che è successo? Guarda qua. No, sono caduto di nuovo, aiuto! Che è successo? Ahia! Dove siamo? In alto corridoio. Tutto diroccato. È tutto diroccato! No! Oh, là c'è la luce. Qua è illuminato. Quattro c'è la mia stanza. Questa stanza è... Un po' diversa. Un po' diversa questa stanza. Che devo fare, ora? Andiamo indietro. Che è successo? certi. Chi perché, quella cosa stava nel noi? Sì, potremmo che ha avuto l'ora, in dove stai ora. Mi chiede se è felice con la sua scuola, e se si ha avuto l'evevito costo che viene con la sua scuola. Puoi capire che ho avuto l'evevito cosa che ho avuto. Puoi capire che ho bisogno di me. Alguien che avrò tutto a l'ultimo, per farlo da il caos e il fear e il confusione. E' quello che sono. E' quello che mi chiede a questo mondo. Oh, sì. Sì, dovrei tornare, non c'è altro modo. Ok, presto sarà la fine, molto presto. Ok, non vedo che ora. Ok, sta caricando cos'altro. Ok, finito? Eh sì. Vabbè ragazzi, la prossima volta faremo quello che ci dice il narratore. E no, quello che vogliamo noi. Vabbè, seguiremo filo per sé nel narratore, cosa ci dirà. Alla prossima, ciao ragazzi! Ciao!